Un saluto e ben ritrovati a tutti da 3bimeteo.com. Vediamo la situazione per giovedì quando ancora una bassa pressione insisterà sull'Europa centrale con molta variabilità ed occasione per qualche piovasco. Meglio invece sul nord Europa grazie al nuovo rinforzo dell'alta pressione con ampi spazi di cielo sereno e clima un po' più umite. Ma vediamo la situazione sulla nostra penisola dove molta instabilità si attarderà sulle zone interne centrali ed in nord con occasione per qualche fenomeno. Meglio invece al sud e sulle due isole maggiori con ampi spazi di cielo sereno e temperature fino a 23-25 gradi. Andiamo quindi al nord Italia perché la giornata sarà ancora tratti instabile con occasione per qualche breve piovasco temporale in particolar modo sulla fascia alpina. Non si tratterà di maltempo continuo ma comunque in pianura vi saranno anche delle belle aperture con clima più asciutto. Andiamo poi al centro perché qui un po' di instabilità si attarderà sulle zone interne in particolar modo nella parte tirrenica. Meglio invece sulle coste con maggiori aperture e clima che sarà un po' più asciutto. E poi il sud Italia perché qui poco da segnalare. Un debole campo di alta pressione favorirà ampie schiarite, clima asciutto, valori termici che saranno anche tutto sommato gradevoli nel pomeriggio, qualche isolato acquazzone solo sulle zone più interne campane, ventilazione debole e mari poco mossi. Con questo per il meteo è tutto, aggiornamenti come sempre scaricando l'app gratuita di trebimeteo.com